Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video avon, il video collaborazione ce l'ha per tutti i mesi con Teresa, Valentina purtroppo, mi pare l'ho detto pure al solito, non mi ricordo, ha dovuto chiudere il canale, ci dispiace, un bacio a Valentina, io ringrazio Teresa che ha tanto tanto tanta pazienza con me perché pure questo mese sono in ritardo, sempre in picci vari, come si può notare sono anche estremamente raffreddata, infatti ho un bel tazzone pieno di camomilla, che carino purri, l'ho presa da Tiger, è una camomilla solubile già zuccherata con estratto di limone presa da Eurospin, è veramente buona, metti fai secondo da paura. Allora, cominciamo, se no non finisco più, è ancora pieno di zenzare, cioè fa freschino, con i 15, 17, massimo 20 gradi, si possa, perfetta, io non ho sciarpa perché solo perché ho un mal di gola, pieno di zenzare, cioè basta, morite tutte, che cazzo ci fate ancora in giro, comunque tornando a noi, scusatemi, prima domanda, canzone preferita del mese, mi piace molto ascoltare Caparezza e mi piace tantissimo sta canzone, la metto un po' più avanti, è un po' più avanti, che se non mi piace tantissimo, è un po' più avanti, è un po' più avanti, Vabbè, mi piace una cifra questa canzone, comunque, ritornando le domande, perché io so, ce la saranno più di un anno e facciamo studio, ancora non so le domande a memoria. Seconda domanda, profumo preferito? Non è prettamente profumo, è un dotorante della Cien, alla pesca, che io ho da due ore poco sotto la shell è troppo forte, me lo metto come profumo, è pescosissimo, sembra un succo di frutta, è fantastico, però è una pecca enorme, troppo, troppo, che ass, cioè io devo cambiare stanza, soffogo, però è buonissimo. Tre, film o telefilm preferito? Ah, tutta me ne dico sì al film, al film finalmente mi sono vista la grande bellezza, mi piace tantissimo, è veramente un bel film e sono tanto contenta che ho visto l'Oscar, molti mi hanno parlato male, dicendo, eh, ma non si capisce niente, non c'è storia, questo non dice niente, non si capisce niente, sono solo immagini, ho detto, boh, mi vedrà un film, è un pseudo muto, sono tante belle immagini, ma non è vero. Cioè lui è una storia fantastica, praticamente racconta il suo nuovo libro, è, con un occhio di sarcasmo, ma nello stesso tempo di realismo, di finismo, di grottesco, ma realmente anche poi con tanto umano, boh, è bellissimo, vabbè, gusti personali. Telefilm è iniziato The Whisper su Fox, veramente molto carino, alieni credo che si impossessano, fanno fare ai bambini delle cose che non dovrebbero fare, gli parlano nella testa. Anche a me sti giorni sempre mi parlano nella testa, tutto qua, tutto qua. Cinque, no, quattro, accessorio preferito, a sciarpa, già io ho corriminciato, quindi figuriamoci. Cinque, cibo preferito, la ciccia, bistecca al sangue, a me piace una cifra, ma no, sono una carnivora. Smatto preferito, ne ho usato poco, ma me ne so pure dagliate, sono una cacchetta, però mi è piaciuto molto questo smatto della, come si chiama, Gresi, che vedo molto usare a Cinzia 2000Z, da questa marca. E il colore, non lo so, CZS035. Cinque, sì, sarà questo. Comunque, un viola metallizzato, con dei micro glitterini, fucsialini, argentatini, molto, molto, molto bello. Sette, però la più sola del mese, come al solito non ne ho la più bene, quindi, 8, figuraccia del mese, boh come al solito lo faccio troppe, 9, cosa più bella, boh bella, ma anzi, sembra bella questo video, sembra molto interessante. La cosa più brutta, guarda, ti dico bella, non ti, allora no, sono un po' di genio, ho troppo mocciolo nel cervello, cosa brutta non mi viene in mente, cosa bella, vi avevo detto nel video, mi preparo con voi, che sono andata a una riunione di buddhisti, e sono andata anche un'altra volta, così, per provare, e devo dire che è stata una bella esperienza, proprio di conoscenza, di vita umana, veramente una bella esperienza, non mi verrà, cioè non mi viene da diventare buddista, sinceramente, per ora non è il mio percorso, però, molto positiva, una bella esperienza, che potrei condividere con tutti, perché potrebbe far bene a qualcun altro, quindi la cosa più bella è questa, mostra roppedi, cioè, perdonami, alà, il buddismo, però, sono andata, non a quello, diciamo, di stippe tibetana, con limone, eccetera, eccetera, ma, quello della scuola Soda Gankai, sicuramente non si sarà pronunciato così, che deriva dagli insegnamenti di Nicere, di Nicere, di Nicere, c'è un nome con la dica, non mi ricordo, è un signore che ha capito di vivere la buddità in maniera diversa, più o meno nel 1200, e l'hanno portato più avanti, comunque, bellissima esperienza, 11, prodotto preferito, mi sta piacendo tantissimo questo adodorante della malizia, al talco, 24 ore, che ho preso in offerta uscendo a un euro, fantastico, veramente è buono, devo starlo a dire? No, non lo so, sta qua, allora, prodotto Avon preferito, mi sto a mangiare letteralmente questa fragranza spray acqua profumata della Naturals, piano e limone, a proposito del nome e Naturals, nel video spacchettamento di campagna 12, una ragazza mi ha fatto notare, ma perché la Nutra Effect tu la chiami Nature Effect? Perché sono un cogliona, fondamentalmente, perché ho in testa Natura e Naturals, e mi porto la legge o male, c'hai ragione, scusate, do prendete per vero le mie pronunce, anche nelle parole in italiano, sbaglio, sono un coglione, foto del mese, non ho preso il cellulare, perché sennò è coglionita, però, sul mio Facebook si può vedere, è la mia foto profilo, tutta così, con un rossetto spettacolare, tipo viola, col mezzo, sono venuta a fare la figa, proprio, uguale adesso, proprio, ho dei capelli peggio dell'altra volta, perché piove da un sacco di ore, stanno proprio, mamma mia, faccio la faccio schifo, dopo dove usci, non lo so, aneddoto, ah, un preferito, non è una cosa carina, forse no, niente, però l'ho detta all'altro video, del fatto che ho saltato quel concorso, che anche se avevo passato prima la selezione, perché ho visto in ritardo le mail e ho rosicato a bestia, come definiresti questo mese? Settembre, settembre, tranquillo, un settembre, tranquillo, non è senza me, senza me, diciamo, volendo, se vogliamo prenderla, l'inizio di qualcosa di nuovo, e niente, vedremo, niente ragazzi, io ho la mia camomilla, il mio mocciolo, i miei capelli di merda, e tutto, vi salutiamo, ringraziamo ancora di reso, un super mega bacino, vi voglio tanto, tanto bene, al prossimo video, grazie, ciao!